ragazzi benvenuti ad un nuovo video di pro punt su black ops 3 la modalità la conoscete come funziona lo sapete benissimo non ho niente a dirvi gustatevi il video e lasciate like bella ragazzi ci siamo ragazzi salutati tutti bella ciao ilo mamma mia oggi ragazzi siamo tantissimi e andremo a fare pro punt su fringe non abbiamo mai fatto infatti volevo appunto fare questa mappa che conosciamo tutti benissimo quindi voglio vedere cosa succederà ragazzi siamo un po squilibrati siamo quanti cazzo siamo sette contro sei addirittura quindi siamo squilibrati vabbè uno in più uno in meno non è che cambi tanto quando si è così tanti va bene ora siamo noi a cercare con chi sono in squadra con gabis vabbè ho vinto tutto ragazzi inutile stare via con andres truppo con il truppo va bene ragazzi mi raccomando silenzio ascoltiamo i vischi voi che siete nascosti fate silenzio ragazzi allora vediamo un po come si stabilizza con una cosa questa cosa sono i tassi c'è il menu è allora questo avete trovato uno cinque infatti bene bene bravi bravi e vabbè ma questo mi sa che non c'è ma infatti c'era invece qua secondo me c'è qualcuno offriti uno cazzo vai via vai verso di merda dove cazzo è bastardo bravo 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 stanno fischiando ragà peccato il termo si è detto un fischio da questa parte ecco eccesso eccesto eccesto eccolo la cassetta scapigliarlo sta scappando mi è cresciuto questo pensa di giucarmi tutto tutto ecco veramente non capirlo però finchiano ho fatto madonna va bene raga e rimangono solo due ma vabbè marocchino e questo lo sapevo da un miglio che è una cassolo raga tutti tutti in giro per te sentire il fischio ok l'ho sentito non capisco per sarà davanti o dietro raga ragazzi è un altro fisco troppo tanto ragazzi in questa zona allora troppo sentiremo il fisco lo fottiamo appena poi diventer via ok no no ci sta trollando non è dentro ci sta trollando invece dentro raga è dentro è una cosa bravo bravo pensavo ci stesse trollando ha detto devi andare devi andare via ha detto minchia questo ci sta prendo per il culo perché è già scappato cosa cazzo era ma cos'era però quel coserto di minchia la kill cam più random che aveva visto su propante ragazzi questo è sparato a caldo vabbè 1 a 0 cosa sono io vabbè cos'è questa cosa rossa raga anche io raga raga andare io vi sfido a non morire mantenendo questa cosa mi sfido ma sfidati andata io e gabi io e leo e te io e te allora io sono i bariloni giganti sono ancora vivi che no no in casa io ho cambiato ma se un bari a non sei più il barilone il cassone io ero il barilone mi hanno ucciso il coso più sgammabile dell'universo io sono in un punto di merda che si guarda subito ragazzo ok io sto fuggendo che ho trovato il punto per vincere la partita ragazzi ora vediamo se la tecnica di mvr online propante nel weekend di guerra funziona se no un'altra idea ancora migliore per vincere al 2 o faq tommas superior man grande leo non ne trovo uno faccia pure color mettiamo i fischi ci godo cazzo minuto bene bene la mia strategia no 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 è casa bianca l'ho trovato l'ho trovato la mia strategia potrebbe funzionare no sono due sono due no mi sono incastrato sono solo io vivo raga boh se non l'hai ne solo una se non l'hai usata puoi usarla è qua in zona dove arrivo no vabbè no vabbè non ci credo no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè ahahahah e niente giucati pesantissimi ho visto manca dall'inizio sono rimasto fermo alla fine ho detto vabbè tanto non mi sparano nemmeno infatti non mi hanno sparato nell'ultimo instant moro così 2-0 vai raga questo va vinto allora diamo un'occhiattina subito qua in giro ma in giro non si mette nessuno solitamente perché siamo delle troppo visi e non ho paura Ricordarsi le parti della mappa diversi ma io più o meno me ne ricordo però ho chiesto un fischio farò anche più che altro per per sicurezza molte volte ma Spesso so già che non Può essere qualcuno No, no, no c'è una cassetta rossa che vuole Stavo sparato anche prima dove dove è qua allo sponso anzi io e qualcuno sappiamo sappiamo Non so che tu chi sia però Eccola Lo sapevo che non so fare Nel finire raga l'ho beccata mentre si muoveva e fuggito dove è andato Andiamo Danna guardami a me ho ferito sta morendo è scappato il centro Allora quanti rimangono raga tre o che gabis vieni con me Eccolo Eccolo No scappo Eee chiudetelo 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 è morto No no fungo fungo via di là Raga sparate insieme Ok venite qua raga Stiamo accanto ragazze no vabbè in realtà dobbiamo dividerci per sentire però se li identifichiamo ci avviciniamo E ne rimangono due Oh me si hanno passati davanti non so in quanti No marocchino no Non ci posso credere Da me raga non c'è nessuna e mi sa che dall'altra parte della mappa sapete Raga fischio fischio Ok e mi sa che ha il nostro spawn ho il mid non capisco la Forse è il nostro spawn raga E allora Allora è in mid probabilmente Fischio fine raga Zitti 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 È mid Verso mid Io non l'ho sentito mid raga Che cazzo eri? Cos'è eri? Io ero in un corno Ma dove dove? Non glielo dire Ma eri in mid per caso Possiamo di utilizzare Eh infatti l'ho detto raga era lì Minchia sentiva Oh cazzo Cosa sono diventato? No vabbè Torna lì dopo il prossimo round Se vinciamo Ok questo ci può anche stare Ah ma non c'è un altro round È pareggio dopo Sì 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 è pareggio Ragazzi c'è uno che fa casino Chi è il generatore rosso? Io Andrei abbiamo avuto questo Siamo così Non possiamo sbagliare Due minuti e cinquanta raga Due minuti e quaranta Tu ti vivi ancora ragazzi Minchia Molto male per i cercatori Ehi chi trova Eh Eh Due minuti raga E ancora nessuno Mamma mia Molto poco Scappa 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 Via 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 Non morite raga eh Rimariamo vivi in sette Fate di tutto Sono confusi ragazzi Quando passano tanto tempo e non trovano nessuno si confondono Non stanno più nemmeno loro quando stanno sparando Vedo qualcuno che spara persino in aria Ecco eh vedi Aia Un minuto e cinquantacinque in sette vivi Ragazzi non morite Ma chi è che sta da west Madonna Cosa bella Cosa bella è che siamo tipo in sei mid E non ci trovano Eh sì come no Oh chi è top red? Chi è che è passato il motore top red? Andre li baita Guarda quello mid Guarda quello mid che non mi ha Ragazzi Ragazzi sopravviviamo in sette Minchia sarebbe tipo imbarazzante Ragazzi Ma ancora non ha morto nessuno E niente Io bubù Io ero nel punto più stupido del mondo Ma non mi hanno trovato Guardate me guardate me E io pure Ragazzi non morite La chiudiamo così ragazzi No 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 Quello li muore Raga binari ci siamo tutti eh No no tu non puoi fuggire Tu devi morire Vabbè ragazzi Non ci credo che li sto trovando così Cioè vi giuro non può essere Ci prova ragazzi Ci prova ci prova Prova a fare la follia Ragazzi Mi state guardando raga Sembano Sembano lo sgabello Ero spararmi Sono io Non ci credo Che ero lo sgabello Sto male ragazzi Sto male Chi è che mi stava sparando Ero lo sgabello Sto male E vabbè 3 a 1 Bravi miei compagni Bravi miei compagni Va bene raga Direi che il video Vi può finire qui ragazzi Salutate tutti Ci becchiamo Ciao 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 Grazie a tutti.